Quattro giorni di politica con dibattiti e incontri ma anche eventi e gastronomia nelle accornice di piazza Garibaldi. Questa è la festa dell'unità di Forlimpopoli che quest'anno è stata inaugurata alla presenza del segretario nazionale del Partito Democratico Maurizio Martina che ha fatto una valutazione sulla situazione attuale. Preoccupazione vera soprattutto per le scelte che questo governo sta facendo. Anche i primi segnali economici e sociali sono purtroppo preoccupanti. Basta vedere i dati sulla disoccupazione e sulla stabilità del lavoro che purtroppo nelle ultime settimane hanno cambiato tendenza, hanno segno negativo. Ora l'obiettivo è quello di rimettere in moto il Partito. Bisogna ripartire dai bisogni delle persone, bisogna ripartire dall'ascolto di tanti cittadini. Non servono bacchette magiche né noi possiamo prendere in giro gli italiani come fanno purtroppo le forze di governo. Dobbiamo avere la forza di stare accanto alle persone che vogliamo rappresentare e costruire un progetto dall'opposizione all'alternativa. La festa dell'unità rimane ancora un'opportunità di confronto tra esponenti politici e la popolazione. Sono occasioni di incontro, di confronto, occasioni di popolo, occasioni aperte a tutta la cittadinanza, devo dire molto molto frequentate. Quest'anno c'è un incremento rispetto all'anno scorso e questo è sicuramente un segnale positivo da cui ripartire dopo la sconfitta elettorale del 4 marzo.